Quest'anno il primo istituto comprensivo ha pensato di onorare la figura dell'avvocato Casano con una centralità ai giovani, pensando di destinare a tre ragazzi che si sono distinti per meriti diversi nel corso della carriera scolastica, insegnando questi ragazzi con delle borse di studio, sperando loro che possano proseguire al meglio il corso degli studi. Credo che sia il modo migliore per onorare la figura dell'avvocato, figura sensibile, attenta ai giovani, ai talenti e alle giovani promesse. Anche nella nostra scuola sono tanti ragazzi che hanno dimostrato impegno e costanza nello studio e speriamo che questo piccolo contributo che daremo loro possa essere un'occasione per realizzare i loro sogni. Lo scorso anno abbiamo inaugurato una sala che è stata intitolata all'avvocato Giovanni Casano, una sala lettura molto bella che è stato uno spazio per i ragazzi. Quest'anno invece il taglio è un po' diverso perché l'idea è quella di porre i ragazzi al centro del nostro progetto educativo, sperando loro che possano dare il meglio ed essere valorizzati per come essi sono. Abbiamo avuto modo di scoprire diversi talenti, però non sempre i ragazzi hanno la possibilità di progettare il proprio futuro. Riconoscere il merito dei ragazzi, a prescindere dai quartieri di provenienza, credo sia il modo migliore per rendere omaggio all'impegno dei nostri giovani.